La mia opinione da tanti anni è che la politica non può essere lasciata soltanto al denaro dei cittadini. Ieri sono rimasto molto svalordito da una dichiarazione poi parzialmente ridimensionata, ma purtroppo come si diceva anche una voce dal sen fuggita è molto più significativa di altro, dal fatto che un politico prudente ha accorto, qual è l'attuale Presidente del Consiglio, abbia detto queste parole, noi non possiamo continuare ad eleggere il Presidente della Repubblica con il sistema dei grandi elettroni, ma non ci sono riusciti e a questo punto, ripeto, vogliono uscire dalla loro difficoltà manipolando la Costituzione, questa è l'idea, questa è una dichiarazione, è una dichiarazione che è stata fatta a me.